allora le sensazioni sono sono molto positive perché già conosco alcuni dei ragazzi che sono qui a catanzaro con cui ho giocato in altre piazze quindi poi conosco l'importanza della della piazza quella di catanzaro e sono molto felice orgoglioso di vestire questa maglia le motivazioni sono sono grandi come come sempre ancora di più dopo aver vinto l'ennesimo campionato quindi arrivo qui con tanto tanto entusiasmo come obiettivi personali mi previso quelli di fare ancora una grande stagione di dare il massimo per il catanzaro volevo salutare i tifosi del catanzaro nella speranza che prima possibile riaprano gli stadi per poterci conoscere di persona forza catanzaro